Ciao Monelli, benvenuti su questo nuovo canale di nuovo e ho una novità per voi grande, grande, grande quest'anno saremo insieme a Leikma e bellissimo perché sono stato ammesso come alle giornate stampa grazie al mio amico Puz che lo vedete su YouTube e che mi ha detto prova, prova, prova e quest'anno d'altro canto sto facendo un po' di lavoro su Instagram, Facebook, un po' dappertutto quindi direi che è abbastanza meritato non avrò grandi iscritti però piano piano vorremmo come gruppo crescere io, diventare sempre più bravo e portarvi un po' di contenuti quindi approfittiamo questa settimana per fare una rubrica siamo ottobre e manca poco Leikma ci sono state poche novità dichiarate, annunciate e alcune, molte, verranno proprio presentate direttamente là in anteprima innanzitutto la presenza di April a Leikma è stata confermata soprattutto dalla Tuareg e si fa molto al family feeling africano ispirandosi alla vecchia Tuareg è un approccio puramente forestradistico perché come vedete ha il 21 anteriore e il 18 posteriore ha un pacchetto elettronico di tutto punto come fa sempre Aprilia e un serbatorio da 18 litri 18! che non è male bisogna vedere i valori di coppie di potenza, le quadri ciclistiche precise nel dettaglio vedere come sarà preannunciano una grande moto all'inizio ero un po' consternato perché estetica non mi piaceva però a guardarla così devo dire che adesso comincio a apprezzarla soprattutto quel cupolino bello dritto versione dacariana che ci sta tutta la strumentazione Plexigas molto... che ripara molto non è male, è un po' larghina forse con i due radiatori ma sarà da provare secondo me è una sorpresa speriamo sia più affidabile dell'RS 660 e dell'autono perché scandalosi con i problemi che hanno avuto però si spera che dopo tutto questo tempo di test sul campo si migliorerà purtroppo Aprilia non fa marketing abbastanza come dovrebbe con questa Nii l'ha presentata però bisogna spingere ragazzi se non spingete questa non vende Desert X a tutti che parlano di Desert X a me piace tantissimo ve la ricordate che era stata presentata l'ICMA 2019 io ci sbavavo dietro in sostanza si vedeva che era la Scrambler travestita da una vecchia Lucky Strike la cos'era la Cagiva Elephant perché si rifà al mito africano anche lei l'occasione per scoprire però totalmente questa moto sarà il 9 di dicembre alla Premier di Borgo Panigale di Ducati però sarà dopo l'ICMA quindi bisogna vedere se porterà qualcosa come ha fatto Aprilia di nascosto sotto i veli oppure ancora il prototipo chi lo sa comunque sicuro che il motore sarà il collaudato testa stretta 937 cm3 raffreddato ovviamente a liquido perché ormai questo va montato già su una ciclistica che è collaudata sul gruppo Ducati quindi con l'anteriore rigorosamente da 21 mi raccomando perché per ora tante moto avevano 19 in Ducati non è molto fuoristradistica oppure il multistrada come fai a farci enduro con una moto da 250 kg 250 no però quasi vabbè passiamo alla prossima la Norden non è altro che secondo me una 790 890 travestita con qualche chicca elettronica nuova di display il faro rotondo un po' di carinatura in sostanza per me rimane la stessa a tanti ho visto che è piaciuto a me boh mi lascia un po' perplesso sono un po' più per le cose squadrate in versione Dakar non divaghiamo intanto verrà presentato ufficialmente il 30 ottobre quindi manca poco 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 ci sono già 5 video girati in Islanda proprio sul campo dal mitico adesso non mi ricordo come si chiama comunque grande motociclista e vediamo il plurivincitore della Dakar Cyril Depre viaggiatore esploratore Mike Horn alla guida dei due prototipi della 901 Norden assai vicino all'estetica concept sì perché secondo me un po' questa è la concept poi l'hanno modificata un pochettino ovviamente per i viaggi guardate qua che bella vabbè alla fine la sostanza è sempre quella anche i cinesi ci hanno fatto una moto simile sullo stesso telaio e motore passiamo alla prossima Benelli Adventure Benelli è dichiarato un 650 con motore V2 sono già stati depositati in Cina dalla Kuiang Motorcycle i disegni di questo progetto bisognerà vedere le tempistiche e come uscirà sicuramente avrà il 19 interiore e il 18 posteriore e il 17 scusate posteriore una serie di telaio traliccio di tubi d'acciaio come sulla TRK la cilindrata come ho detto intorno ai 650 e col motore a qua sembrerebbe con i cilindri AV sembra di 90 gradi con distribuzioni tipo B albero bisognerà vedere effettivamente come uscirà il motore sembra quello collaudatissimo Suzuki quello che monta anche sull'Evustrom per intenderci quindi ne vedremo delle belle passiamo a casa Honda Honda la HB500X che io personalmente adoro costa poco pochino più della concorrenza però ha la fribilità Honda e va benissimo e ci vai ovunque con quel 19 io lo consiglio a tutti poi nessuno mi darebbe ci metterei solo dei cerchi a raggi e poi per me va bene anche in fuoristrada l'estetica rimane che è invariata cambiato la colorazione e qualche chicca c'è di sicuro innanzitutto possiamo dire che l'estetica rimane invariata se non per l'introduzione di nuove grafiche l'ho già detto e il nuovo fonale anteriore capace di una resa maggiore cosa vuol dire fa più luce le frecce le frecce offrono anche la funzione di luce posizione color ambra ambra si va bene c'era proprio bisogno ecco se nel modello precedente veniva utilizzata una forcella telescopica tradizionale monodisco da 310 adesso onda con la 2022 mette una bella showa qua dice modello sff trattino bp adesso andiamo nel dettaglio comunque da 41 mm priva ancora di ogni regolazione e due dischi però non più uno da 2,96 e le pinze flottanti a due postoncini paralleli sono d'accordo però magari con le forcelle potrebbero lasciarmene un po' migliori come le altre due sorelle arriva anche il forcellone in acciaio ma più leggero rinnovato speriamo che migliori quindi grazie alle pareti più sottili c'è più rigidità quindi ottimizza la mangiovolezza e il piacere di guida anche la taratura non diciamoci del mono posteriore è stata modificata per avere un assetto perfetto parliamo sempre di Honda 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 si dice che Transalp arriverà il nome è stato depositato bisogna vedere cose porteranno a ICMA secondo me la porteranno secondo me magari un prototipino uscirà speriamo che non sia come la CB come la 125X che era stupenda amata da tutti ma non si è mai vista è stata presentata da pochissimo la Multistrada V2 molto bella qua dice su Red Live che mi piace molto come sito come blog come video sono bravi molto a me piace molto c'ha il 19 interiore e il 17 posteriore scelta voluta perché dicono proprio in Ducati se avete visto la presentazione che ciclisticamente è l'equilibrio perfetto non cade in curva come il 17 non devi riforzarla come il Volunt 1 il 19 è la via di mezzo secondo me adatta per le adventure bike se non si vuole fare offroad un po' più serio però effettivamente a parte il Marretta chi c'è chi fa tutte cose e me pochi chi compra una moto del genere soprattutto un Ducati io avrei un po' temo a portarlo fuori strada il mio amico ci aveva lasciato giù una fiancatina qualche segno gli ha lasciato chi ha chiesto mezzo milione di euro per cambiarle vabbè comunque hanno lavorato molto sull'ergonomia dicono che è stata risignata la sella quindi è più stretta è andato anche possibilità di avere più movimento longitudinale al pilota la seduta è come detto più stretta ma è anche più bassa le pedane poggiapiedi assicurano una posizione delle gambe meno raccolta quindi molto molto più adatta ai viaggiatori l'arco di cavallo è solo 1790 mm in altezza l'altezza sella è pari 830 che può anche scendere a 790 con il kit di ribassamento per nanetti ehm sì non si d'altronde è giusto non tutti possono permettersi di si è spenta la luce non possono permettersi di avere una moto troppo alta io sono il primo non si nota ad occhio però è stata alleggerita di 5 kg che non è poco in generale quindi ora l'agua della bilancia per la V2 si ferma a 199 kg bisogna vedere con i liquidi quanto arriva poi già nuova frizione tamburo cambio biella bla 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 altri 2 kg risparmiati non è male i cerchi lega pesano 1,7 kg meno che non è poco e anche i cerchi a raggi come optional sono più ridotti di peso rispetto in precedenza tutta questa riduzione di peso non sembra che prendi un sasso sia un plan metà però se lo fa Ducati lo fa bene anche se si spacca si spacca bene la molla del cambio è più caricata è un modo da evitare che il sistema arrivi anche a fare un'imposizione intermedie quindi il cambio è più preciso bla 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 intervelli interventi di manutenzione ogni 15 km 15.000 km immaginate ogni 15.000 km o 12 mesi come tutte le case ormai con un controllo del gioco valvole ogni 30.000 insomma non è male questa Ducatina parlando invece del mondo ebike pianeta mtp.it bello sto sito e ci sono le batterie da 1000 Watt ora la 1000 ancora una 400 sistema posh è fenomenale di solito tipo la Bulls non tipo proprio la Bulls ha portato sulla sua e-bike 1000 Watt ora 1000 Watt complessivi perché è suddivisa su due power unit può montare due batterie 500 oppure la principale da 625 e la sterna da 500 che porta veramente a 1125 Watt ma dove vai in Alaska passando invece alla i-bike i-bike ha presentato ha messo sulle sue bici già il nuovo motore Yamaha pvx3 pvx3 un grande grande grandissimo motore che ne parlano molto bene che già il fly-on aveva 120 newton metri di coppia spettacolare questo pvx3 non so quanto ne abbia dovrebbe anche lui proviamo a googlarlo pvx3 a 85 newton metri che non è molto non è poco e un peso di solo 2,75 kg è più leggero del 10% rispetto al modello precedente quindi con maggiore capacità peso-potenza inoltre il design come vedete dalla foto non so se si vede è molto più piccolo grande novità affermata quest'anno è Polini Polini ha fatto un gran bel lavoro con le sue e-bike quest'anno c'è il ep3 plus come plus come motore questo ha 70 newton metri di coppia se no c'è l'mx che ne ha 90 newton metri di coppia chi l'ha provata ultimamente dice che è praticamente un motorino non è una bike a me piacerebbe provarlo Polini se mi senti fammi provare ste e-bike magari mi invogli anche a cambiarlo se me ne regali una bene no io c'ho un e-bike enduro rx del 2016 2018 il periodo con 400 watt e il motore ancora il vecchio Yamaha che quando si pedala dà molta potenza e si rischia o il cappottamento oppure che si lascia lì il solco e quindi fa una fatica bestia è molto più fisica le nuove e-bike sono tremende sono non sono solo dei motorini ma hanno anche un livello di assistenza elettronico che è favoloso aiuta molto nella pedalata nella cadenza e ti permette di arrivare in posti allucinanti consumando anche meno batterie che in precedenza chi non ha provato l'e-bike secondo me è un folle capisco che esistono le muscolari che esistono che sono nate prima le muscolari ed è uno sport però chi non ha mai provato un e-bike non sa cosa si perde è divertimento lo stato puro quindi con questo vi saluto alla prossima puntata e questa domenica 10 ottobre saremo alla magnifica sul lago di Garda mi raccomando seguiteci che poi pubblicherò il video sarà di divertirsi molto perché danno anche bel tempo e sarà un po' bagnatino quindi ci sarà quell'emozione vado con la moto leggera perché chi me lo fa fare con la moto pesante conosco Marcello Valdimalzo off-road che ha fatto dei bei percorsi un po' un po' bastardier per le moto grosse fai un po' fatica fattibile se hai esperienza però un po' fatica io voglio divertirmi stavolta e comunque mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un like seguitemi su facebook su instagram dove cavolo vi pare se volete venire con voi con noi del Tassia Lamonello iscrivetevi perché vi divertirete sicuramente sia nuovi che non nuovi che neofiti che non neofiti chiunque ha messo chiunque voglia fare un giro in amicizia è ben accetto e quindi iscrivetevi al canale ditemi cosa ne pensate ditemi che moto volete che portiamo così ne discutiamo non parlo di 7,90 8,90 tenere trite e ritrito perché mi sembra non mi sembra il caso se voletene portiamo un video facciamo live facciamo tutto quello che volete quindi alla prossima avventura